buongiorno 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 benvenuti buongiorno e benvenuti ma benvenuti dove andate ve ne affanno come troppo entusiasmo buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di metrona che è dal fronte liberista ecco però se io mi impegno ci provo e tu dico io già sono quello che sono e tu però allora nuova puntata è quello che affronta il berista temporaneamente eccezionalmente in nuova formazione un momento ci ha scritto sulla nostra chat ho bisogno di una pausa di riflessione esatto 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 noi poi aggiunto vorrei che restassimo amici noi noi a questo punto abbiamo messo ci vorrebbe un amico di antonello venditti ci siamo quindi diciamo organizzati per questa puntata puntata eh della quale in realtà noi non sappiamo praticamente nulla perché nonostante ci abbia appunto lasciato temporaneamente per un impegno professionale adesso la pausa di riflessione la classica pausa di riflessione e ci ha voluto comunque anche imporre il tema questa è una bella cosa perché diciamo tanto per capire chi comanda esatto esatto ti ha detto dice io non potrò esserci però poi andate avanti come se ci possi e quindi noi con questi ordini vabbè dai carlo eh dobbiamo averci anche un minuto ci sono ormai tanti iscritti qua qua la situazione è quella che è quindi eh nell'attesa del rientro di Serena Sileoni oggi parliamo di divieti parliamo di divieti perché parliamo di divieti Carlo non lo sappiamo perché no parliamo di divieti perché eh sulla scorta di esperienze analoghe che diciamo ci si stanno affermando e si sono affermate negli scorsi anni in tutto il mondo il comune di Milano fammi condividere ha imposto il divieto di fumare non solo nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto eccetera come prevedono fumare erba fumare nazionali di fumare fumare sostanze legali ovviamente eh ha imposto questo legato vabbè pensavo anche alla fermata del bus nei parchi e negli stadi eh nel raggio di dieci metri da altre persone e a proposito della tua battuta dici se per fumare una sigaretta ti danno una multa da duecentoquaranta euro allora tanto vale quei duecentoquaranta euro investirli no? Cioè tanto multa per multa uno li investe in cose illegali esatto tra parentesi mentre no appunto d'altronde come dicono quei due eh economisti come dicono quei due economisti eh israeliani e fine surprise una multa una multa è un prezzo quindi uno alla fine decide di pagare allora il divieto di fumo quindi che ricordiamo Carlo ha da un punto di vista economico eh diciamo un razionale che si che riguarda la cosiddette l'abbiamo detto tante volte esternalità in questo caso esternalità negative di consumo cioè tutti in quei casi secondo cui nella teoria economica il l'individuo non è in grado di stimare in maniera corretta la propria eh proprio equilibrio rispetto alla quantità da consumare perché nel considerare i benefici considera i propri benefici individuali nel considerare i costi considera i propri costi individuali ma come ci sono dei costi appunto esterni dell'esternalità dei costi che si causano agli altri in maniera del tutto involontaria in realtà la quantità di equilibrio che si trova non sarebbe quella più corretta per massimizzare l'utilità e da questo punto di vista diciamo ci sono come tu ricordi bene ogni volta una serie di strumenti non è che il divieto o l'intervento dello stato è l'unico l'unico possibile c'è appunto la cosiddetta tassazione natura piguviana cioè quell'aumento del prezzo imposto che dovrebbe ridurre la quantità consumata ci sono i divieti e così via però queste cose non è che funzionano benissimo no e poi soprattutto in questo caso ora battute a parte siamo ci troviamo davvero in una situazione estrema eh io posso al limite capire il divieto alle fermate del bus perché sono poste dove tipicamente diciamo pre covid perlomeno le persone eh si si assembravano eh è molto meno comprensibile eh lo stesso divieto in in altri spazi aperti come i parchi in alcuni casi in giro per il mondo addirittura le strade perché onestamente in tutte quelle circostanze il costo eh sanitario di fatto il danno o forse anche il fastidio imposto dal fumatore nei confronti di chi si trova nel nei dintorni è francamente molto limitato e oltretutto è molto limitato in un contesto in cui eh fumare tabacco è un'attività perfettamente legale anzi talmente legale che eh le accise sul sul tabacco che come ricordavi possono essere giustificati in ottica piguviana ma in realtà hanno un motivo molto più terra terra cioè quello di generare gettito fiscale sono uno dei principali strumenti attraverso cui lo stato si finanzia e e però pur essendo questa attività legale e ehm determinando del appunto una una un flusso di 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 risorse verso lo stato abbastanza consistente questa attività può essere esercitata eh sempre in meno posti tra l'altro proprio la teoria delle esternalità che tu citavi mh alla luce di questa teoria è complicato giustificare paradossalmente più che il bando del fumo negli spazi aperti il bando del fumo nei nei locali chiusi nei cosiddetti esercizi pubblici perché lì è davvero facile internalizzare il costo eh attraverso eh sistemi di 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 esclusione dei fumatori da alcuni locali e eh di di che già esistono che già esistono poi in realtà poi noi abbiamo adottato in Italia una normativa particolarmente restrittiva per cui di fatto non esistono eh locali che ha che ammettono i fumatori nelle nelle salette apposite perché la capienza è ridotta i costi di adeguamento sono enormi eccetera e quindi ci troviamo nella situazione paradossale per cui un'attività legittima legale e frutto di gettito fiscale è teoricamente possibile ma di fatto vietata ovunque tranne che nelle abitazioni private e questo è un tema abbastanza rilevante su cui si è interrogata la letteratura no? Cioè se io vieto alle persone di fumare in qualunque luogo pubblico non è che poi queste stesse dove il fumo si dirada si disperde nell'atmosfera e quindi il fumo passivo determina relativamente poco danno sulle altre persone non è che poi le persone compensano aumentando le loro abitudini di fumo nell'unico posto dove possono cioè in casa esponendo così i loro familiari ai danni del fumo passivo molto più concentrati questa è una domanda a cui empiricamente è molto difficile rispondere perché chiaramente noi non possiamo osservare quello che succede nelle case delle persone però qualcuno ci ha provato nelle camere da letto e non solo quello nelle camere da letto e anche fuori dalle camere da letto anche fuori dalle camere in cucina ovunque cioè per dire posti no volevo anche volevo anche eh sì vai vai finisci no dicevo qualcuno ci ha provato e in realtà la letteratura ha trovato risultati abbastanza abbastanza contrastanti tra l'altro in un contesto e questo è l'ultimo punto di un punto importante in cui il numero dei fumatori e il numero delle sigarette fumate da ciascun fumatore parlo di sigarette perché sono il principale veicolo attraverso cui le persone fumano il tabacco poi ci sono anche altri altri strumenti sigari le pipe eccetera ma sono meno diffusi soprattutto tipicamente associati a una minore frequenza eh di 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 assunzione della nicotina eh il numero dei fumatori e il numero di sigarette fumate al profumatore cala ehm in maniera sostanziale e significativa da molti anni quindi eh per certi versi si ha quasi la sensazione di un accanimento forse anche non giustificato no tra l'altro ci sono dei momenti tipo quello che noi stiamo attraversando adesso in cui davvero almeno vorrebbe poi dice che le persone poi dice che le persone sparano eh appunto scusa Carlo non so se mi senti è che oggi ho una connessione pessima ti sento no dimmelo che anche tu adesso ricevo anche il tuo messaggio sulla chat anche tu ti vuoi prendere una pausa di riflessione no 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 io non 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 potrei fartelo mai una cosa che già non sono donna no volevo dirti volevo dirti una cosa no in realtà però tu introduci anche un elemento cioè la tua la tua considerazione sulla sul sul fumo dentro casa che secondo me eh riguarda anche un po' no i divieti di covid che stiamo vedendo tante volte non ci si rende conto che probabilmente vietando i cosiddetti assembramenti all'aperto dove comunque il rischio di contagio è è è certamente inferiore si è in qualche modo finito con l'incentivare una serie di eh comportamenti all'interno delle case dove invece eh questo questo è eh certamente diciamo più pericoloso mi sembra la storia no del famoso ciò che si vede e ciò che non si vede eh di di bastià della della finestra della finestra rotta e l'esempio eh della violenza e dei videogiochi no vietare i videogiochi violenti in realtà sembra una cosa sensata per gli adolescenti però alcuni studi hanno dimostrato che gli adolescenti che stanno dentro casa a giocare giochi violenti non vanno a fare violenza fuori cioè i cosiddetti effetti eh non previsti delle delle polisi ecco da questo punto di vista io credo che ci debba essere eh non solo come sempre diciamo una maggiore attenzione a quello che dicono i dati cioè alla a ciò che che succede quando appunto è famoso quel quello studio che citavo prima è finis e price in cui questi due eh studiosi israeliani eh provano a risolvere il problema dei papà e delle mamme ritardatari nel lasciare i bambini all'asilo quindi cosa fanno impongono una andare a prendere impongono una multa all'asilo impone una multa a chi va a prendere i bambini tardi e cosa succede che il numero di ritardatari aumenta perché di fatto uno si pagava questo questa utilità ecco da questo punto di vista il richiamo secondo me che da questo eh fronte seppur sguarnito nel generale eh possiamo fare resta quello di cercare sempre sempre di più di approfondire quelli che sono gli studi esistenzi i dati e e soprattutto secondo me di avere più rispetto anche dell'individuo e degli incentivi a cui l'individuo risponde cioè spesso eh noi ci rendiamo è chiaro che il lockdown generalizzato chiude le persone dentro casa diminuisce ovviamente eh i contagi meno contatti meno contagi questo è assolutamente evidente però è anche vero mi sembra che una serie di norme eh possono comportare nel lungo termine un cambiamento dei comportamenti che secondo me è davvero l'obiettivo eh da da raggiungere quindi probabilmente delle decisioni meno drastico delle decisioni che sono più rispettose della possibilità dei cittadini degli individui di cambiare i loro comportamenti anche un po' più di fiducia come negli individui ecco nella loro capacità diciamo di autoconservarsi potrebbero in qualche modo rendere meno ridicole le amministrazioni ora non volevo chiudere così però no però è la verità e poi direi anche avere un minimo di di attenzione maggiore per il fatto che questi questi grandi cambiamenti di abitudini e di preferenze sociali hanno una dimensione culturale educativa che è fondamentale eh io non credo che i divieti negli esercizi pubblici e eh il peso delle accise siano l'unica e forse neppure la principale ragione per cui per cui eh la gente sta smettendo di fumare credo che la la principale ragione o comunque un elemento fondamentale eh nel nello spiegare questo cambiamento di atteggiamento che vediamo soprattutto nel confronto generazione la generazione dei nostri genitori fumava di più della nostra generazione e noi presumibilmente fumiamo di più della generazione dei nostri figli eh hanno dipende dalla consapevolezza del dei danni che il fumo può causare a sé e agli altri e dipende anche non nascondiamocelo da una diversa accettabilità sociale del del fumo in fondo se ci pensi la generazione che ha fatto la guerra non gli potevi raccontare che il fumo passivo fa male perché queste queste qua erano nelle trincee facevano più male le bombe no esatto e invece in un contesto di una società che diventa tendenzialmente sempre più sana di persone che vivono più a lungo e sempre più informate anche attraverso campagne anche troppo allora però se tutto questo è vero allora non è chiaro se interventi misure come quella milanese rispondono a un'effettiva esigenza di protezione della salute pubblica e non ripeto soprattutto nella parte relativa ai parchi eccetera meno in quella eh delle delle fermate del bus e non invece a un accanimento forse fuori tempo massimo tra tra parentesi eh io che ho notato per ora proprio con le chiusure dei bar no e anche quando no l'asporto del caffè cioè io tu lo sai la Sicilia è una regione l'economia della Sicilia è basata sul tavolino del caffè come dicono Ficarre e Picone e quindi la tragedia massima di ecco ma si stanno modificando anche un po' i comportamenti cioè non capita più di dire mi vado a prendere un caffè al bar quindi effettivamente come dici tu questi comportamenti poi nel lungo periodo tra parentesi sui giovani eh tempo fa è uscito un interessante ehm editoriale speciale sull'economist effettivamente i giovani di oggi cioè se tu prendi voglio dire la vita degli anni settanta e prendi la vita dei giovani di oggi sono veramente i bambini con diciamo il casco le ginocchiere oppure per pure per andare a fare la pipì quindi diciamo questo punto di vista non moriranno più per anche una vita pallosa cioè diciamo un po' un po' io cioè nel senso voglio dire io mi corro il motorino a mio padre ho cominciato a chiederlo a 13 anni eh mia figlia non me l'ha chiesto non mi non mi vede quindi spero non me lo chieda però oggettivamente mi fa abbastanza impressione ecco questo te lo devo dire chiaramente noi avevamo anche un anelito all'autonomia e alla libertà che mi sembra eravamo anche un po' più bestie noi eravamo più bestie eravamo una minchia da fare cioè noi li facciamo fare un sacco di noi avevamo mai una minchia da fare quindi alla fine diciamo eh cioè voglio dire massimo e facevamo la gara di sputi possiamo dirlo se visto che serena non c'è tanto ormai è in prescrizione sì anche la gara di erutti era famosa di fare tutto più forte da parentesi io ricordo di avere vinto una volta con mio padre che passò passai chiaramente una settimana di guai bestia questa diciamo è quindi attenzione attenzione a eh diciamo ai divieti perché appunto già allo stadio per esempio l'avevano messo e poteva avere senso no perché uno ti fumava dietro ma secondo me può aver senso nei posti dove nei luoghi per quanto all'aperto dove le persone tendono a essere molto vicine le un alle altre onestamente non ha molto senso in altre in altre tipologie di posti e poi dieci metri di distanza francamente è troppo no vabbè che allora uno manco può parlare eh vabbè soli solitari volevo raggiungere anche una cosa voglio dire no immaginavo la conversazione tra noi al parco no che cazzo è serena non sa non sa che minchia da finire ci ha lasciato no volevo dire no non ci ha lasciato si è preso una pausa di riflessione no volevo dirti anche ehm che ora me l'hai fatto dimenticare no dico anche quei comportamenti cioè eh l'informazione spesso diciamo queste queste questi comportamenti non adeguati si cambiano proprio con l'informazione ecco perché noi siamo sempre convinti la libertà di espressione sia giustizia non c'è dubbio che quello che dice Greta è eccessivo e che quindi diciamo non abbia alcun senso scientifico o o abbia poca eh utilità pratica ha senso nella misura in cui eh l'opinione pubblica chiede poi un qualcosa di diverso che lo stesso vale per i comportamenti salutisti eh lo stesso vale per i movimenti assolutamente stupidi come eh quelli dei no global alla fine cambiano la domanda di lungo termine quindi a questo punto di vista le persone sono anche più educate di prima è difficile che uno ti si metta a fumare davanti e tu dici guardi per favore spenga la sigaretta la rissa può succedere però è molto meno diciamo eh diffusa di quanto fosse prima ecco questo è anche secondo me un l'importanza di lasciare l'informazione circolare l'informazione a libertà di parola su su quello che sono i temi e poi lasciare agli individui la capacità di adattarsi ecco sì anche perché appunto non è che nel mondo ci sono soltanto le azioni vietate e le azioni consentite dalla legge esistono anche delle forme di sanzione sociale se tu ti trovi in un posto dove è tecnicamente consentito fumare o fare altre attività e ti accendi una sigaretta e tutti cominciano a guardarti male a borbottare i tuoi amici si allontanano come ha fatto Serena con noi eh e e così via allora in fondo anche se sei un po' tonto alla fine cogli il messaggio e probabilmente la volta dopo non te l'accendi più la la sigaretta no? Eh appunto no? Ed appunto senza senza vorrei arrivare appunto a cose e ai costi di transazione è chiaro che poi a un certo punto le norme sociali finiscono con l'essere una forma proprio di innalzamento in qualche modo del costo personale che hai nel fare quel comportamento e quindi senza bisogno di tasse picuviani senza bisogno di intervento dello Stato le norme sociali le norme della comunità che cambiano grazie proprio alla informazione che circola a a ciò che sono le nozioni che diventano patrimonio comune a quel punto diciamo eh con un mondo con meno Stato meno divieti e e più fiducia nelle persone piano piano alcuni comportamenti possono cambiare per carità è chiaro che nessuno di noi due pensa che non bisogna evitare domicilio è questo lo diciamo perché magari qualcuno può pensare diciamo che in questo momento diciamo potremmo eccessivamente spingerci oltre eh eh approfittando. O compiere gesti inconsulti. Perché ti ha lasciato? Mi è piaciuto dire questa espressione. Inconsulti. Inconsulti è bello. Anche perché non si capisce non si capisce. No anche perché è un po' la parola che avrebbe portato Serena in questa discussione. Sì secondo me avrebbe detto avrebbe detto inconsulti. Ecco potremmo potremmo se Serena dovesse mancare per per un po' più di tempo potremmo anche lanciare questo ogni giorno questo. Che parola avrebbe detto Serena? Esatto. Questo è bello no Carlo? Com'è? Questo. E questa e questa devo dire sarà il primo grande cambiamento finché. Esatto. Serena non sarà con noi. Perché diciamo parliamo guardiamo nelle palle degli occhi i nostri i nostri ascoltatori. I nostri ascoltatori e diciamogli queste le cronache da fronte liberista sono nate letteralmente un anno fa poco meno. Aspetta prendo il fazzoletto un minuto. Ecco. Ecco. Prendo la prendo la mascherina prendo una mascherina mi pulisco il nato. Come si può fare no? No allora le dipende tra se è pulita col lato esterno o col lato interno della mascherina. Vabbè non importa. Tanto poi la butti via spero. Ma non lo so. Fatti i cazzi tuoi. Mi butto soldi così. Non l'ho capito. Allora nell'anno in un anno solare normale ci sono 52 settimane qualche giorno. Le cronache dal fronte liberista sono nate esattamente 51 settimane fa. E devo dire Serena ce l'aveva detto. Io non resisterò un anno con voi. E le cronache dal fronte liberista hanno avuto due tre caratteristiche costanti. Una Serena. L'altra la nostra cazzoneria che diciamo è destinata a restare perché così siamo stati progettati. E la terza è che ogni puntata delle cronache si concludeva con un gesto poetico. Ma non può esistere poesia senza una musa. E quindi da oggi in poi se e finché e nella misura in cui le cronache ci saranno le cronache si concluderanno e ci saranno e finché ci saranno senza Serena finché ci saranno senza Serena che si apresa una pausa di riflessione ma ha detto che resteremo amici e ha detto che ci lascia perché ci ama. Esatto. Le cronache introduciamo due grandi novità. La prima grande novità è la parola che avrebbe detto Serena. La parola di Serena. Noi diremo la nostra poi proporrete nei commenti la vostra. Esatto. Poi sceglieremo la migliore. Sceglieremo. Posso dire una seconda parola di Serena visto che oggi è un po' il giornate di novità. Non è irragionevole scegliere la migliore. No no non è irragionevole. Bravo Carlo non è irragionevole. Però in consulto secondo me è un buon candidato. E la seconda novità qual è? Qual è la seconda novità? Non ricordo più. Dilla tu. Io non mi ricordo io sono perso. Andiamo. No la seconda novità. Magari la annunciamo in una delle prossime puntate la seconda novità allora. Vabbè annunciamo la prossima volta la seconda novità. Aspettiamo. Magari torna. Magari torna. Magari torna. Non velo dire così. E allora chiudiamo. No. E consulto. Con la parola della Sileoni della giornata in consulto dici anche tu che parola avrebbe detto la Sileoni in questa puntata. E andiamo a fumare va. Andiamo a fumarci vabbè quello che è. Ciao a tutti. Grazie. Ciao.